Nessun commento da parte di Monsignor Riccardo Fontana, il vescovo della diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro, dopo la condanna a 25 anni di reclusione per padre Graziano per l'omicidio di Guerrena Piscaia, al momento sceglie il silenzio. La casalinga di Caraffello, scomparsa misteriosamente il 1 maggio 2014, avrebbe avuto una relazione sentimentale con il frate congolese, confermata dalle migliaia di messaggi scambiati tra i due presunti amanti, oltre 4.000 solamente nel giro di qualche mese. Il frate l'avrebbe strangolata il giorno stesso della scomparsa, un atto istintivo dettato dalla paura di uno scandalo. All'epoca della sparizione, il religioso prestava servizio nella parrocchia di Caraffello come viceparroco. L'ultima dichiarazione di Monsignor Riccardo Fontana in merito alla vicenda risale all'ottobre 2016, dopo la sentenza della Corte di Assise di Arezzo, che aveva inflitto al religioso una condanna a 27 anni di carcere, ridotti poi a 25 in appello per il ricalcolo della pena e confermati infine in Cassazione. Padre Graziano aveva scritto il vescovo in una nota, fu prontamente sospeso dall'incarico di viceparroco per conclamata inadeguatezza. La diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro aveva poi rinnovato la propria vicinanza alla famiglia di Guerrina Piscaia, con l'agudo che la giustizia potesse ricostruire pienamente la verità e le relative responsabilità. Dopo la decisione della Cassazione, padre Graziano, detenuto attualmente nel carcere di Re Bibbia, potrebbe essere sospeso a Divini se abbandonare così per sempre l'abito talare. A cinque anni di distanza dalla scomparsa, il corpo di Guerrina Piscaia non è mai stato ritrovato. I familiari della donna hanno chiesto adesso un segnale da parte della curia retina e un incontro a Papa Francesco. Avevamo chiesto noi un incontro con il Papa, non so se verrà concesso ora probabilmente, che è finita tutta la vicenda processuale, probabilmente sì, ma più che altro è una sorta di riconoscimento alla famiglia Alessandrini che ha subito per anni questa situazione per colpa e responsabilità di una persona che anche se faceva parte dell'ordine premostratensi, quantomeno faceva parte anche della diocesi a retina.